Come potevate mai presumere un altro senso reagente nel contesto della percezione di questo vostro mondo, un diverso altro approccio significante e significativo di altre esperienze a voi ignote, un senso delle cose nucleato da percorsi scelti nella misura in cui la dismisura dell'altro vi spaventa. Come può l'ostanziale comprendere il viaggio complesso del nomade che incontra le altre culture, l'analfabeta sopponente di se stesso comprendere l'intellettuale esperto critico di filologia e antropologia? La mia è magia della curiosità creativa insostenibile che grazie a Dio conosco ed esperisco ogni giorno, entro differenti parametri e limiti a voi sconosciuti. Quale lezione avete mai tratto dalla vostra superbia e quale ne trarrete da questo sconclusionato pur parler?